Dopo l'avvento del nuovo prefetto di Rimini Palomba e a seguito della maxi operazione delle fiamme gialle che ha portato al sequestro di beni riconducibili al clan dei Casalesi per un valore di oltre 7 milioni di euro, è stato deciso in Riviera di istituire una banca dati permanente delle presenze sul territorio di personaggi legati a boss, clan e famiglie mafiose. Fortemente voluto dal nuovo rappresentante del governo, questo che si prefigura come un lavoro molto complesso e difficile dovrà coinvolgere tutte le forze dell'ordine. È risaputo purtroppo di come la nostra regione ed in particolare le zone turistiche siano oggetto delle attenzioni della malavita organizzata che ha sempre più bisogno di riciclare il suo ingente denaro sporco. E quale momento migliore vista la crisi economica? Si fa sempre quindi più preoccupante la piaga delle infiltrazioni mafiose sul territorio considerato che sempre più spesso alcuni imprenditori in difficoltà accettano l'aiuto facile di camorristi e malavitosi. Da tenere d'occhio anche diversi grossi locali notturni che solo pochi mesi fa erano stati sfiorati da un'operazione della direzione investigativa antimafia di Napoli. E considerato che sono circa 3.000 i soli alberghi sulla riviera romagnola, occhi puntati non solo sui già conosciuti malavitosi ma anche sulle decine di loro amici, parenti e conoscenti che sempre più sono integrati nel territorio economico della nostra Emilia Romagna.